Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Continuiamo oggi la lettura del mio racconto La leggenda di Atlantide dell'episodio numero 15 L'immortalità dei due re Buon ascolto Grazie ai poteri magici del gatto il mondo fu finalmente salvo Sfortunatamente però i due re malvagi riuscirono a sopravvivere grazie alla loro immortalità acquisita che avevano registrato assorbendo le creature viventi Perciò essi decisero di vendicarsi contro Zafferano e i suoi fratelli per avere loro impedito di impossessarsi dell'intero pianeta Re Applestar disse a Re Applemoon Dobbiamo nutrirci del potere di Zafferano Esso nelle nostre mani ci permetterà di riavere tutto quello che abbiamo perso Che idea Sai Re Applemoon potremmo manipolare le menti di una decina di orche Esse una volta che uccideranno Zafferano e i suoi fratelli li consegneranno davanti a noi così finalmente potremo conquistare il mondo Re Applemoon con aria fiera accettò l'astuto piano di Re Applestar Pensò infatti che sicuramente Zafferano sarebbe stato sconfitto contro le grosse orche dalle quali non poteva competere Perciò i due re con le loro doti magiche iniziarono a manipolare le menti dei poveri mammiferi marini che sebbene avevano lottato per esistere al potere oscuro dei due re caddero nel loro incantesimo diventando così un pericolo per Zafferano Sti sono i due re Re Applestar e Re Applemoon che stanno iniziando a pianificare un modo per vendicarsi Continuo L'attacco delle orche Una volta giunta mattina un gruppo numeroso di orche possedute dai due re di Atlantide allo scopo di distruggere Zafferano iniziò a prelustrare la zona trovare il povero Zafferano Esse quando lo trovarono si scagliarono contro di lui con ferocia tentando di ucciderlo Zafferano terrorizzato fuggì nascondendosi dentro una caverna buia e stretta Poi chiese alle orche Perché state reagendo in questo modo minaccioso contro di me? Non state bene? Le orche possedute dallo sconcantesimo dei due re risposero Zafferano siamo qui per annientarti non avremo mai pace fin quando ti avremo sconfitto definitivamente ora rivelaci dove ti nascondi così metteremo fine alle tue sofferenze Zafferano astutamente senza fare rumore rimase immobile come una pietra purtroppo però le orche grazie alla loro capacità sensitiva di percepire il battito cardiaco delle loro prede obbligarono Zafferano ad uscire dal suo nascondiglio facendo crollare dei grossi massi nella caverna il giovane Zafferano fu così costretto a combattere le grosse nemiche usò il magico potere del suo tridente tramutando le pericolose orche in innocui cuccioli liberandole dalla stregoneria dei due re le mini orche pentite per il male che stavano commettendo decisero che per scusarsi avrebbero servito Zafferano per l'eternità il giovane sirenide accettò la proposta però domandò alle orche ve lo ripeto perché mi stavate attaccando non è da voi orche attaccare senza motivo le orche dispiaciute rispose Rosaferano non sappiamo con certezza cosa ci abbia spinto ad agire in quel modo ma possiamo confermarti che una mente oscura ci aveva possedute Zafferano felice che non fosse successo nulla di grave tornò a casa presentando ai suoi fratelli le sue nuove guardie le mini orche Zafferano i suoi fratelli e le mini orche vi ringrazio dell'ascolto iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Simone ciao